Vittorio Sgarbi, probabile assessore regionale ai beni culturali di un ipotetico governo musumeci? La risposta al nostro quesito giunge dallo stesso critico d'arte estense presente ieri a Favara per sostenere la candidatura a Lars nella lista musumeci presidente di Giuseppe Arnone. L'ex sindaco di Salemi e fondatore del Partito della Rivoluzione, nei nostri microfoni annuncia di aver ricevuto la proposta dallo stesso candidato alla presidenza ma che nei suoi progetti politici non ci sarebbe un futuro legato alla Sicilia. Vittorio Sgarbi eventualmente sarebbe pronto a fare l'assessore regionale ai beni culturali? Se ne è parlato con Musumeci ma io sono proiettato verso un'esperienza per le prossime politiche con il Partito della Rivoluzione che dovrebbe essere il riferimento di tutti quelli che non hanno più un collegamento logico con il PDL e con il centro-destra così come si è configurato fino ad oggi. Per cui un'offerta e una ipotesi come questa sono lusinghiere ma non credo che il mio destino politico sia legato alla Sicilia, almeno sul piano personale.